L'idea del soggetto è nata un po' in funzione anche delle opere d'arte che stiamo sviluppando in terza media. Abbiamo fatto Gustav Klimt e quindi un po' anche dai ragazzi è nata l'idea di riproporre l'albero della vita un po' anche per tutti i suoi valori simbolici. E questo albero sarà poi dopo corredato da una serie di colibri, anche questa è una scelta dettata da tutti i valori simbolici, che ha il colibri, che è un uccellino guerriero, che ha molto coraggio, molta forza. Volevamo un po' anche così simbolicamente rappresentare un po' anche il coraggio che hanno i ragazzi nel momento in cui alcuni affrontano l'esame, mentre per quelli che arrivano il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media. Questi colibri corrispondono poi alla firma dei ragazzi perché ognuno di loro ne ha fatto uno e verranno poi attaccati alle pareti. Poi abbiamo decorato la porta d'accesso all'aula di violino, che dovremo finire poi oggi, e anche recuperato un arredo dell'ingresso, che era una vecchia scrivania in cui le bidelle appunto avevano tutto il loro materiale, e l'abbiamo, diciamo, riutilizzata con la tecnica del decoupage e del craclet, che è una tecnica appunto che si prevede sull'utilizzo del legno. Grazie Grazie